La prima domanda che volevo farle è questa, cosa risponde ai calciatori che dicono di non aver preso i rimborsi, o almeno tutti i rimborsi, ma anche della difficoltà di allenarsi, addirittura trasferte a proprie spese, insomma si sono sentiti lasciati soli, abbandonati? Niente di vero, siamo arretrati dei bonifici, però non per mancanza di responsabilità e come avevo detto ai giocatori all'inizio del campionato, sposate questo progetto, lo dovete fare seriamente e saremo seri con loro e loro lo dovrebbero essere con noi, non lo hanno fatto. In che senso, mi scusi Pincioni, in che senso non sono stati seri? Ma in che senso, il capitano Scipioni dopo di aver perso la terza partita consecutiva, ho cercato di capire il perché, la sua risposta è che abbiamo tutto, non ci manca niente, forse non abbiamo molta fame. Queste accuse di aver bloccato tutti, di avere una società assente, non è vero, la società è stata presente sempre, però non è stata mai accettata da loro, loro non giocavano per i colori del Lanciano, giocavano per i bonifici, niente più. La nostra intenzione è di, come ho detto, azzerare tutto con la città, lo staff lo stiamo facendo, calciatori pure, però certi si dovranno accontentare di certe cose, come io mi sono dovuto accontentare del fatto che ho perso quasi 700 mila euro, li ho buttati via e non aver raggiunto il traguardo. E capisco che nel calcio si può perdere e si può vincere, però nella maniera come abbiamo perso noi, non mi sta bene. Continuo a dire, non potete rubare da noi. I giocatori però non stanno rubando, magari stanno avanzando delle richieste legittime. Non hanno richieste legittime, perché io, scusa, ma se tu prendi un muratore e vieni a casa tua a fare un lavoro e ti fai il muro storto, lo paghi? A prescindere dai risultati ottenuti, ma sono scesi in campo comunque i calciatori. Sì, anche mia nonna poteva scendere in campo, voglio che almeno tu ci provi. Tu ci può essere che uno perde, però gioca come devi giocare. Ci sono stati dei bei filotti in cui il Lanciano è andato benissimo, vinceva. Sì, per i filotti il Lanciano è andato benissimo e poi è successo quello che è successo, come ho detto. Molte interferenze da fuori, hanno fatto sì che hanno diviso questa società, che loro si comportavano come se erano i padroni con i soldi miei. Ma non può essere così, dai. Io mi prendo le responsabilità in certe cose, però io non scendo in campo. Forse se la società fosse stata, forse, dico forse, un po' più vicino alla squadra, magari queste interferenze, come le chiama lei, non nascevano. Ma no, ma questa è una menzogna, ti dico perché. Perché noi siamo stati vicino alla società, ma non ci mancavano niente, dai, ma che stiamo a dire. Ma noi siamo stati sempre presenti, però loro non ci accettavano come società. Quale è stato il problema? Il problema è che loro ascoltavano il direttore che li ha portati, invece di ascoltare la società. Il direttore comandava? Non voglio fare nomi, da notte, da fuori. Capito? Allora non diciamo, cioè io mi prendo responsabilità. Le mie responsabilità sono che ho scelto le persone sbagliate, perché se avrei scelto le persone giuste avrei arrivato al traguardo. Piggione, è vero che lei dettava anche le formazioni? Aveva ingerenze? Ma non è vero, ma questo non è vero, non è vero. Questa è una bugia totale, una bugia totale. Non ho mai dettato formazioni a nessuno, però come proprietario, da curiosità, ho sempre chiesto, ma scusa, ma perché fai uscire questo qua? O entra questo qua? Cioè cose che fanno tutti. Richiesta legittima. Richiesta legittima non fuori del, come si dice, dei parametri del calcio. Ecco, Piggione, però è vero che voi avete avuto problemi anche con l'amministrazione comunale, che starebbe per revocare la convenzione, proprio perché ci sono delle inadempienze economiche. Ma no, no, scusa, scusa. Allora, possiamo fare questo promesso. Noi siamo arrivati agosto scorso. Questo stadio non è uno stadio, è un carrozzone. Piove, ci piove dentro. Noi eravamo in un ufficio e ci piove dentro, eravamo con umbrellas, capito? Allora, io non sono inadempiente, anzi, ci ho rimesso denaro, quello che ho potuto, però non è lo stadio mio. Io non mi metto a fare la banca del comune. Se lo vedono loro, anzi, io al comune gli ho scritto e gli ho detto, senti, mi potete dire se io posso giocare allo stadio ogni domenica e quando mi fai pagare? E se non me lo fai fare, va bene, mi trovo un altro posto. Ma non diciamo, guarda, ma non so perché, cioè voi dite, riportate certe cose come io sono inadempiente, ma che stai a dire? Non è che lo riportiamo noi, lo riportiamo nel senso che sono i giocatori che hanno fatto questa conferenza stampa e che hanno detto la loro verità. Adesso lei sta dicendo. Ah, va bene, la loro verità è molto lontana dalla verità. Io non sono inadempiente in niente. Io gli ho sempre detto ai giocatori, guarda, sono stato là due mesi fa, a marzo, gli ho detto ai giocatori, guarda che voi dovete raggiungere l'obiettivo come vi avete promesso. Loro hanno sposato questa causa. Qual era l'obiettivo, Pincione? L'obiettivo era almeno i play-offs. Almeno i play-offs. Ma scusa, ma tu hai visto le sei partite consecutive che hanno perso? L'hai visto come le hanno perso? Vattene a vedere. È da prendere a schiaffi. Ma chi sta a scherzare? Comunque, ritornando al comune, ti dico una cosa. Noi abbiamo cercato quello che è. E poi quando tu dici che la convenzione sarà revocata. Allora, ti posso dire una cosa. Non è che lo dico io, l'ha detto il comune. Anzi, il sindaco. Sì, allora, la convenzione finisce il 30 giugno. Sì, è vero. Basta, non è revocata, finisce. E poi io non ho detto che me lo voglio riprendere. Io ho chiesto, senti, vuoi parlare dello stadio? Se non me lo vuoi dare, maybe me lo dai partita per partita. Però se non me lo dai, sto bene. Io non ci vado, noi non ci vandiamo per una ragione semplice. Perché là ci può cascare il morto. Perché ci sono parti che crollano di cemento. Questo e quell'altro. Io non voglio queste responsabilità. Che se le prendono loro, lo stadio è loro. E lo possono dare chiunque vogliono. Pigione, lei adesso si trova a New York. Ma verrà a breve a Lanciano, in Abruzzo, a Lanciano, per chiarire un po' tutto? Ma sì, ma io non ho niente da chiarire. Noi sappiamo quello che stiamo facendo. Se loro non sono stati pagati, è per un motivo semplice. Che io do quello che mi danno. E ti dirò una cosa. Io ho calciatori, adesso, mentre io parlo con te, va bene? Che mi scrivono, che mi dicono che, guarda, io accetto questo perché so che non ho dato quello che dovevo dare. Ti posso far vedere ricevute. Ho speso più di 20, 20, 30 mila euro in attrezzature. E poi ti dico, Paolo, se manca un pallone, tu lo puoi dire, prendiamo un pallone. E poi, un'altra cosa, quando tu dici che sono andati in trasferta con le loro spese, loro lo dicono. Questo è vero, ti dico perché. Perché loro si sono comportati come una squadra di prima categoria. Allora che viaggiano come una squadra di prima categoria. Vabbè, però, voglio dire, nel calcio si vince e si perde. Non è che se una squadra retrocede, allora i calciatori non vengono pagati. Mi sembra un ragionamento strano. No, un ragionamento non è strano. Sai perché? Perché tu non conti i miei soldi. Vedi? Tu, i miei soldi, a te non te ne frega. Perché non sono tuoi, non te ne hai guadagnato tu. Allora a te non importa se io perdo i miei soldi. A me sì, va bene? Allora tu mi hai fatto perdere i miei soldi, va bene? Tu sei arrivato a casa mia e mi hai fatto un muro storto. O addirizzi il muro, o mi dici, Pinciò, vabbè, mi dovevi dare cinque, dammene uno. Però sono un uomo e ti dirò non mi dare niente perché non me lo merito. Quindi dovrebbero contrattare, insomma. Siccome non hanno raggiunto l'obiettivo dei play-off, dovrebbero avere meno. Come ho detto, it's a two-way street, è una doppia via. Io non, come si dice, non vado su questa strada che dite voi che ah, i giocatori sono scesi in campo. E allora? Che significa? Scusa Paolo, te l'hanno detto questi qua che sono stato l'unico idiota in eccellenza di pagarli a agosto? Beh, no, non l'hanno detto. No, non te l'hanno detto. Ah, vedi? Ma perché dice che lei è stato un idiota? Magari è stato invece bravo. No, sono stato un idiota. Non sono stato un idiota. Io ti dico una cosa, io con questi qua li ho strapagati. Ma tu sai che il mio portiere guadagna come un chirurgo in Italia. Ma che stai a scherzare? Questo non lo so, lo sta dicendo lei. Va bene. Va bene, lo sto dicendo. Verrà presto a Lanciano per chiudere. Verrà presto. Verrà presto. Verrà presto? Sì, sì. E quindi rimarrà comunque alla guida anche l'anno prossimo? Allestirà una nuova squadra. Adesso alzeriamo tutto e ripartiamo di nuovo. Spero con forse un po' più organizzati e con calciatori seri e con uno staff serio.